Questi sono degli streamer e oggi io e Best li andremo a snappare Con l'unico problema però che lo faremo con il nome di ferro nell'id di Fortnite Quindi quando questi sclereranno se la prenderanno proprio con lui Questa è la prima streamer e adesso io e Best dovremo andare a snapparla E sarà abbastanza facile visto che ha detto a tutti quanti di atterrare in questo punto Sono carico fratello, prendi un'arma e gli andiamo addosso Signori, è il momento di brillare, portare in alto il nome dei nostri snappi Perché io e Best siamo i top snappi di Youtube Italia, vero? Siamo gli snappi! Signori, la posso vedere, è su un fungo e qua ci sono tanti funghi in realtà E questo potrebbe essere un po' un problema Una volta individuato il bersaglio, signori, è il momento di andare a prenderlo Signori, se i miei informatori non sbagliano, è proprio quella là Io adesso la provo, Best! Vada! No, si è mossa! No, signori, stanno sdappando altri Ma no, no, devo uccidere io Pusciala, pusciala, pusciala! Andiamo! Sono andato a pusciare i fratello, stanno mica a traier danno build alto, che faccio? Pusciali, come solo tu sai fare, uomo! Non so se questo gli ho fatto un danno della madonna No, è qua sopra, è qua sopra, zio! Eh, niente, mi hanno ammazzato Sono finito! Oh, cacchio! Ah! Vai! Oddio, ho tirato uno! Peccato che non era lei Sono una pippa clamorosa! Mi ha ucciso lei! Però attenzione, Best, io ho ucciso il suo accompagno Quindi è il momento, entri in gioco tu e scrivigli Questo era uno youtuber famoso Andiamo! Non c'è paura Ma chi è ferro, raga? Ragazzi, non conosce ferro Ma è il momento di fargli scoprire chi è, giusto, Best? Andiamo a fargli scoprire, fratello Prossima kill sarà nostra E dopo il fallimento della prima partita Siamo qua per la seconda, fratello E questa volta non esiste morire Sia chiaro Ce l'ho davanti, fratello! Aspetta! Non puoi ucciderla subito, aspetta! Oh, ma io volevo abbracciarti Mi ha ucciso lei Ma allora, signor Best Io posso capire tutto, ok? Ma lei è inutile totalmente Io non posso avere un compagno del genere per snappare No, 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 impazzisco Impazzisco No E lasciando stare lo scorso tentativo Che è un po' fallito nella miseria, direi È il momento del terzo tentativo Questa volta, però non falliamo veramente, per favore, fratello È il nostro turno, fratello Ora o mai più E io penso che sarà più o mai più che un'ora Devo stare esattamente davanti a dove c'è il ping roso Dobbiamo andarci immediatamente Panino, c'è un momento in cui un uomo deve prendersi carico delle sue responsabilità e andare E questo è il momento Andiamo a prendere la nostra preda Che tra l'altro è già due volte che ci ha stompati e ci ha distrutti Quindi direi che è anche una preda abbastanza forte Zio, sono quasi sicuro che sia esattamente qua dietro Ce la possiamo fare, zio Ricordati, è solamente una persona che gioca Non è molto diversa da noi Anche se noi siamo delle me... Fratello, io ho un trucco Tanto da qua prima o poi dovrà uscire Quindi io l'aspetterei alla fine Il suo compagno è qua Vai Oddio Oddio, se facciamo il suo compagno è fatta Oh No No, fami No Mi viene a pusciare Non ci che... No ragazzi, ma è fortissima Ma è fortissima Ma è un mostro Scappa Tu, fratello, tu scappa Hai un compito Scappare Fungo la foggia La mamma di questo fa... No, no, panino Panino, non mi direi che è finita così Sono morto! Signori, questa streamer è troppo forte E signori, è il momento di stoppare la seconda streamer che in questo momento è in live E dopo la figuraccia da nabbi che abbiamo fatto prima best Questa volta non possiamo permetterci di sbagliare Dobbiamo farla sclerare di brutto, fratello Non possiamo fare di nuovo la figura da nabbi che siamo Comunque l'importante è trovare delle armi Un pompa E io ho tutto ciò che mi serve per ucciderla E snapparla E distruggerla Dovrebbe essere qui da qualche parte, zio, visto che metteva il ping a crocevia conici Arrivano Sono qui da qualche parte, zio, sopra Uomo, abbiamo il nemico sopra di noi Dobbiamo stare molto attenti Dammi questi cellini molto interessanti Mi permetteranno di non morire subito E sai che non è a crocevia, ma è ai Jones? Bisogna partire a prenderla, uomo, corriamo Dirotteremo, Ryanair, esserci meccanostica Fratello, sono esattamente qui ai Jones Li ho visti dalla live Dove sei tu, uomo? Sono dietro di te, fratello Stiamo facendo l'agguato Ce l'abbiamo in pugno Anche se siamo fuori safe, uomo Dobbiamo fightare È il nostro compito La domanda è perché lei rimane fuori safe Non ho capito Vai, è lei È lei L'ho terrata No, 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 no Mi hanno ucciso No, uomo, non ti hanno ucciso, uomo Non ti hanno ancora ucciso La finisca e ballo Io ballo Andiamo Abbiamo zappato la prima besta Ora è il momento, però Bisogna scriverle in chat che è stato ferro Io, signori, ho lanciato il dato Ti prego Di qualcosa Ma era ferro Ti ha stampato ferro Lo so, ma io dicevo Di Joe Arrond che l'ha ammazzato Signori, non me lo aspettavo Ma il nome di ferro Non fa tanto scalpore Quanto lo aveva fatto il nome di best Questa cosa un po' mi triggera Ti dico la verità, eh Sono più famoso Comunque, a parte queste cavolate È il momento di scendere a piddacoli pendenti E uccidere la nostra streamer Che sarà abbastanza complicato Anche perché, secondo me, è molto più forte di noi Ma la vera domanda è Chi non è più forte di noi, best? Eh, probabilmente Powa L'ho terrata, zio, l'ho terrata Oddio, balla Balla, uomo, balla Ma non era lei, pirla Ma chi è questo, oddio Ho ucciso pure lui Va bene così, uomo Siamo ancora vivi Dobbiamo un attimo shieldarci Perché è esattamente dietro di noi Oddio, oddio, oddio Porca put... No, panino Sei inutile Comunque, signori Cerco di buttare lì Il fatto che ci fosse uno streamer Uno youtuber famoso Nella sua lobby Vediamo un po' cosa risponde Grazie, turro Eh, fa niente, best No, ma poi non lo faccio con cattiveria Cioè, nel senso Queste persone magari sono Sono anche grandi Capisco, capito Però non Non capisco Che non dovrebbero Fare così per questo Ma io mi chiedo Ma com'è possibile Che Ferro non lo conosca nessuno? Sei inutile, Ferro Sei inutile Signori, lasciate adesso un bel like Per supportarmi Perché nessuno conosce Ferro E questo video sembra Non andare mai a buon fine Questa invece è un'altra streamer Che adesso è best Proveremo a snappare Questa volta però Con tanti, tanti risultati Ma soprattutto Zio, questa volta Dovremmo farla incazzare con Ferro Perché ancora nessuno Si è arrabbiato con Ferro Cioè, lo conoscono Ma non ci credono che sia lui Comunque oggi Tutte streamer Tutte quanti Ci stanno facendo Il c***o grandi Quanto una casa Ma ci vogliamo far valere In realtà Queste streamer Sono dieci volte più forti di noi Ma è una cosa allucinante Veramente Comunque È qui da me la streamer Se non sei qua Ti ammazzo E appunto è dall'altra Ragazzi Ragazzi il panino È sempre il panino Comunque velocemente Vieni da me zio Perché c'è anche il suo compagno Che secondo me È anche abbastanza forte Zio È là davanti Uomo è là davanti Si riusciamo a farla fuori È incredibile No C'ha uno Di vita Puscia Let's go L'abbiamo atterrata No l'ha atterrata qualcun altro Non ci credo L'ho fatta E allora sai che cosa si fa Vai balla Balletto Balletto Chi sei? E infatti mi balla No Che cattivi Mi ballano Zio Ma ora è il momento Di scriverle in chat Vai tu E scrivi Quello era uno youtuber E anche abbastanza famoso Ma te che la metto dentro L'ho messo No cesso Vabbè vado in bagno Io la difendo Mentre tu scrivi zio Vai Io lo youtuber famoso Chi è lo youtuber famoso? Ma cosa mi stai Ricontando Cosa mi stai dicendo Signori Mi sto aspettando È mio dovere Nonché mio preciso Obbligo Fare in modo Che lei si arrabbi Con ferro Ok Guardiamo ferro Maia però vabbè Sono dei fami Sti pesci Ma non ci sei pesciolini Signori Dopo questo episodio Di Stai Sniper E gli streamer Col nome di Abbiamo capito una cosa Fratello Le ragazze Non si incazzano mai Perché nessuno Conosce ferro No perché zio Vabbè A parte quello Che molti non lo conoscevano Ma poi soprattutto ragazzi Non si sono arrabbiate Io mi ricordo Che nello scorso episodio Col tuo nome fratello I ragazzi Ci erano incazzati a manetta Ti avevano insultato tutti Quindi signori Mi raccomando però Un bel like a questo video Iscrivetevi al canale E questa volta però Visto che Pua Andremo a snappare La gente Che io so per certo Che Sclerai si incazza E lo andrà anche A insultare su Instagram Pua in caso Ti vogliamo bene Vedo questo signori Quello del vostro video È tutto E ci vediamo al prossimo video Beh ragazzuoli